Sirena Torquati e ho frequentato anche i corsi di walking, walking e dancehall. Ho frequentato anche un'accademia di recitazione cinematografica e mi sono veramente appassionata alla recitazione, infatti mi piacerebbe continuare anche con questa. Quest'anno ho scritto il mio primo inedito che si intitola Voltare Pagina, dove appunto parlo di un'ossessione che avevo perso una persona e che sono riuscita a liberarmi grazie alla scrittura di questo brano. Con Voltare Pagina voglio dare un messaggio positivo alle persone, cioè di avere il coraggio di lasciare indietro un pensiero verso una persona che non ricambia il vostro sentimento e di andare avanti appunto di Voltare Pagina perché il futuro ci riserva sempre delle novità e delle persone nuove più adatte anche a noi. I miei progetti per il futuro sono di continuare a scrivere Brani Inediti e perché no creare un album di brani scritti da me. Potete seguirmi sul mio canale YouTube Sirena Torquati e vedere anche il video di Voltare Pagina e mettere un like se vi va e commentare. Seguirmi sul profilo Instagram Sirena Torquati Singer e sulla pagina sul profilo Facebook Sirena Torquati. Grazie, ciao! Ciao!